ciao a tutti io sono francesca e oggi voglio recensirvi una cover per apple watch una cover che a molti piacerà è una cover che a me per esempio ha due punti su cui non piace comunque la cover in questione è questa ed è della hotter box e non potete vedere non copre lo schermo e questo è un punto che a me non piace perché io cerco una cover che mi copre anche lo schermo per fortuna le ho trovate ne ho tre ho questa qua che non è acqua quella che è dentro ma è proprio la cover che se andate ad usare l'orologio si appiccica allo schermo per rovinarlo di meno e poi ne ho un'altra leggermente diversa da quella che ho adesso da aliexpress arrivata con dieci giorni di ritardo ma vabbè è un po più spesso questa qui di aliexpress e quando la userò mi farò la recensione io preferisco le cover che coprono anche lo schermo perché essendo che vado molto in spiaggia ho paura che la sabbia mi rovini lo schermo ed è un punto a sfavore di questa cover secondo me perché non copre lo schermo però comunque state tranquilli perché se vi dovesse cadere l'apple watch difficilmente si rompe lo schermo perché è molto spessa ea questo strato diciamo che fa rimbalzare l'apple watch quindi non si rompe lo schermo un altro punto sore che secondo me va a scimmiottare diciamo tra virgolette quello che è il design di apple watch io vi metterò una foto del mio apple watch con questa cover e non sembra neanche un apple watch nel senso è troppo spesso e quindi va a secondo me rovinare il design però come ho detto un punto favore è che è molto spesso quindi difficilmente se vi cade si romperà lo schermo dell'apple watch un altro punto favore che è invece è un punto a favore di queste cover qua è che se voi andate a lavare le mani qua vi entra l'acqua probabilmente qui no no perché essendo che non copre lo schermo l'acqua non rimane tra lo schermo e la cover quindi non succede nulla e il mio parere su questa cover anzi facciamo così da un vuoto da 1 a 10 6 sufficiente diciamo che fa il suo diciamo copre l'apple watch però si coprisse lo schermo sarebbe meglio secondo me detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao